Da 30 anni Elena vi accoglie nella sua bottega della scarpa consigliandovi con gentilezza e professionalità le calzature migliori da indossare tutti i giorni. Elena ha ricercato negli anni prodotti made in Italy confezionati con materiali di qualità ma mantenendo prezzi convenienti. Offre ai suoi clienti una varietà di scarpe alla moda, comode e confortevoli per ogni età. È rivenditrice autorizzata Lelli Kelly per le bambine e Super Jump per i maschietti, scarpe che accompagneranno i più piccoli fin dai primi passi. Per le giovani donne Elena consiglia le linee comode e anatomiche consolette e studiate per non affaticare le gambe durante le giornate. Le scarpe da uomo invece si dividono in due grandi classici, la linea sportiva con diadora e le scarpe tecniche oppure la linea più elegante come le sneaker e lo stile inglese da uomo. Per le signore Elena ha una collana di comodi mocassini per tutte le stagioni, tutti i colori e tutte le tendenze. Infine la linea per cerimonie è studiata per unire l'eleganza alla praticità. Elena vi aspetta a Strambino in Corso Italia numero 79 tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, chiuso solo lunedì mattina. Calzatura Elena, scarpe per tutti i gusti.